La nostra trincea non si vede, è il nemico, è lontano, protetto da strati di acqua ed acciaio, ma sta là col cuore che gli pulsa, proprio come noi. Porto di combatto verso! Porto! Uomini in mare! Cosa facciamo, comandante? Le tiriamo su. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo, l'uomo lo salviamo. Sono in guerra. Sono ancora un bene però. Noi fani! Noio! Grazie a tutti.